Siamo poco più avanti, abbiamo la protezione civile, qui come potete vedere lungo la passeggiata altri alberi, rami abbattuti, anche un ballo della segnaletica stradale, rami raccolti e guardate quanto è distante il mare, la terrazza Mascagni qui è completamente allagata nella sua parte più interna e meno esposta all'acqua, alle onde, guardate qua, è diventato un lago, l'acqua arriva praticamente fino al cordolo dei giardinetti, tutto completamente allagato, è un mare, abbiamo appena fatto due passi, guardate dove arriva già l'acqua, volete vedere arriva già le caviglie e siamo appena a due passi da dove tutto inizia, immaginatevi quanta acqua, quanto è profondo, piovanti, dove noi naturalmente ora non possiamo andare, stiamo cercando di passare da un piccolo percorso alternativo sfruttando le giostre per farvi vedere, guardate qua il livello dell'acqua, là dietro ci sono i giochi dei bambini completamente allagati, guardate se riuscite a vederla la panchina, la panchina è sopra una aiuola, quindi immaginatevi quanto è alto il livello dell'acqua, la panchina se non riuscite a notarla bene dietro il palo dell'illuminazione, ecco spostandomi forse la vedete un po' meglio, guardate qua, questa è la terrazza Mascagni che è diventata un lago.